Hanno messo nero su bianco con 22 firme il disagio che stanno vivendo adesso e che continueranno a vivere fino a che la Sicilia resterà spezzata in due. Sono i sindaci della provincia di Caltanissetta che chiedono lo stato di calamità dopo l'interruzione della Palermo-Catania al governo nazionale. La Sicilia rischia il collasso, scrivono in una nota, i comuni dell'entroterra soprattutto rischiano il collasso. Le dichiarazioni del ministro del Rio, che ufficializzano la chiusura di entrambe le carreggiate dell'autostrada, rendono la situazione gravemente drammatica. Va detto a chiare lettere, continuano i 22 sindaci che senza indugi e allontanando ogni forma di finto permenismo, il tratto Catania-Palermo si percorre in 4 ore e mezzo. La chiusura del tratto della A19 ha messo in luce lo stato tragico della viabilità interna che versa in uno stato di abbandono totale ormai da anni. Si è costretti a percorrere strade non illuminate, senza guardrail, con smottamenti, fanghiglia sul manto stradale, restringimenti di carreggiate, un viaggio da incubo. La strada più sicura per raggiungere Palermo dal nostro introterra pervede ora il raggiungimento di Catania per passare a Messina, che significa percorrere 400 km in più. La Sicilia concludono, così è tagliata in due, condizione che colpisce irrimediabilmente un sistema economico già fortemente compromesso. Con un aggravante, il passo da emergenza a catastrofe in Sicilia è sempre molto breve. I 22 amministratori esprimono il desiderio che la vicenda venga trattata alla stregua di una calamità naturale come i terremoti. Chiediamo alle autorità competenti di stringere sui tempi di avere certezza degli interventi che si proceda senza indugio. Chiediamo confermenza a un intervento immediato del governo che tramite il sistema di protezione civile assume immediatamente il compito di risolvere il problema come se si trattasse di un terremoto perché in termini di cause ed effetti stiamo parlando di una calamità e come stato di calamità deve essere trattato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti.